Fatevi sotto! Dimostrate quanto valete! Continua! Lo batterai sicuramente! Puoi farcela! Mangieni la calma! Tutto qui! State facendo sul serio? Continua così, Clyde! Continua così, Clyde! Vorrò seguire i miei stessi consigli. Sfruttare ogni strumento a mia disposizione. Questa è la mia! L'herbello, faccio usare le giro! L'herbello, faccio usare le progone! C'è la mia! Ma è la mia! Non mi spiega! Sì!